Interventi su riscaldamento, aria condizionata e illuminazione. Il governo è a lavoro per un piano di emergenza che includerà l'introduzione del coprifuoco per i negozi a partire dalle ore 19 e per i locali come bar, ristoranti, pub e discoteche a partire dalle ore 23. Le misure verranno imposte sul territorio nazionale nel caso in cui i tagli e le forniture di gas diventeranno effettivi. In questo modo quindi verrebbe avviata la fase 2 dell'emergenza energia e non è escluso che possa scattare già nel prossimo autunno. Le illuminazioni cittadine dei musei verrebbero ridotte fino al 40% e in casi estremi ci potrà essere un coprifuoco sull'illuminazione, mentre la temperatura dei termosifoni nelle case sarà ridotta di 2 gradi. Previste limitazioni anche sugli orari in cui il riscaldamento potrà essere acceso. Intanto parte la campagna di sensibilizzazione. Secondo i calcoli sul razionamento residenziale si potrà arrivare a risparmiare il 20% del gas che arriva dalla Russia. Ma nel caso in cui il flusso del gas si interrompesse del tutto, si potrebbe arrivare direttamente al livello di emergenza 3 con l'interruzione delle forniture, per un periodo di tempo illimitato, alle imprese più energivore come acciaierie, cementifici, industrie della ceramica e del vetro. La bozza del nuovo piano del governo comprende infine il ritardo del pensionamento di 6 centrali a carbone che sarebbero state chiuse nel 2025 e che da sole producono l'8% del fabbisogno italiano. Due sono in Sardegna ma le loro risorse sono usate solo dalla stessa regione. Le altre sono a Venezia, Brindisi, Civitavecchia e Monfalcone. Tra poco più di una settimana l'Unione Europea presenterà il piano strategico unitario che permetterà di coordinare i piani di emergenza dei singoli Stati membri.